E l'ho segnato per questo torneo, ma gli è andata la vimba al Presidente, diceva c'ho da fa, un c'ho tempo di stradiera, a settembre se ne fa. Comunque non voleva venire via, era di là, era detto a settembre che mi deve venire via. E poi c'è un'altra scuola che chi l'ha tutte le volte dicono che gli fanno gli sfavori arbitrali, e si sono rotti le palle, dice io, ma da bene, non c'è quelli in arbitrazione, quindi può sbagliare. Se sbagli in buona fede, ha rotto le palle, se sbagli in buona fede è diverso. No, più che altro è che sbagli sempre nella storia della squadra, cioè, a un certo punto ti scocciano.